Siamo qui con Monica Guerritore, una delle più importanti attrici del teatro e non soltanto del teatro torni ad Avellino con uno spettacolo, un omaggio a Judy Garland che emozione ti dà questo spettacolo? L'emozione di un musico, io non l'ho mai fatto come vedi c'è una scena che simboleggia il suo appartamento a Londra nel Grando Terriz, gli ultimi concerti che lei fa questa stanza si trasforma in una sala di un concerto e io canterò e intratterrò il pubblico come Judy Garland e quindi per me è un'emozione perché la verve della star hollywoodiana i costumi, le paillettes e la ricchezza della star è qualcosa che noi in Italia non abbiamo mai neanche frequentato mentre invece la morte è qualcosa che noi sappiamo di Judy Garland questa morte per overdose da Barbie Turici è il vero racconto poi di tutto questo musico, il fatto di Lustrini e Paiati e dopo il grande successo dell'anno scorso con Oriana Fallaci porti sul palcoscenico un'altra storia importante di un'altra grande donna ormai ci hai abituato a questi ruoli beh io cerco, visto che il cinema e la televisione in questo momento sono un po' deficitari dal punto di vista del racconto del femminile delle donne, sono tutte un po' mi sembrano figurette invece queste donne contemporanee così complesse così forti e piene di talenti anche di dolori però vive, vitali, moderne in teatro diventano veramente personaggi molto importanti quasi cinematografici e quindi non si fanno al cinema la gente viene, questo spettacolo è sempre esaurito per le musiche che sono bellissime però anche perché come nella Fallaci ci confrontiamo con una donna contemporanea tu dall'inizio della carriera hai portato sempre grandi donne sul palcoscenico che devo portare? Piccole donne? non esistono piccole donne è solo il libro della Alcott che rapporto hai con la musica? visto che adesso ti sei ricimentata con otto pezzi sì, è enorme, io non ho mai cantato però tutti i miei spettacoli ultimamente da quando ho cominciato con il sepe e il teatro danza sono sempre stati, anche i miei Giovanna d'Arco, anche la Fallaci il movimento musicale cioè il movimento emotivo che ti porta alla musica e tutto diciamo che anche la Garland è scoppiettante, è folle è straordinariamente comica fa tanto ridere il pubblico ma quando parte la musica di Smile o di What Now My Love lei racconta realmente la sua verità che è una solitudine enorme, assoluta che la porterà poi a morire qui in palcoscenico com'è nella realtà il successo grazie mille grazie